Chi sono io? Tu sei un dono. So che ultimamente per te è stata dura che ti senti diverso dagli altri bambini. Tu sei diverso. Dopo che tuo padre e io ci siamo sposati abbiamo pregato tanto per avere un figlio. Una notte. Qualcuno ci ha ascoltati. Brandon! Tu sei speciale. Noi crediamo che tu sia arrivato qui per una ragione. Era nel granaio. L'ha trovato? No. Era come se ne fosse attratto. Può sembrare come noi. Ma non è come noi. Ma non è come me. Sì, sì, sì.